Il business plan è un documento che serve per valutare l'affettabilità strategica ed economico-finanziaria di una nuova attività, quindi è un documento che viene redatto solo quando se ne sente l'esigenza e proprio questo suo aspetto non ricorrente fa sì che spesso in azienda non ci siano tutte le capacità necessarie per produrlo. Ecco allora che serve un professionista che abbia queste capacità, che sia in sostanza capace di produrlo. Come si compone questo documento? Si compone principalmente di due parti che verranno approfondite all'interno del corso, una parte tesa a dettagliare la parte qualitativa, quindi il settore, il mercato, l'idea imprenditoriale, i concorrenti, i casi benchmark e via dicendo, e una parte che invece è un taglio più quantitativo che serve per valutare la fattibilità finanziaria ed economica della nuova iniziativa. Quindi si vuole vedere se l'idea che l'imprenditore ha in testa ha i numeri per poter essere implementata. Perché questo documento è importante? Per molti motivi due brevi flash. Da un punto di vista interno perché serve alla proprietà per capire la fattibilità della propria idea imprenditoriale. All'esterno perché aiuta ad attrarre dei finanziatori. Tra questi finanziatori evidentemente un ruolo rilevante hanno le banche e per il motivo storico che stiamo vivendo, le banche sono molto sensibili a selezionare progetti che siano poi capaci di produrre una redditività di lungo periodo. Ecco che se è sempre stato importante il business plan, in questo momento lo storico possiamo dire che è l'uo più di altri momenti. Inoltre per noi che ci occupiamo di aziende del turismo, il business plan è un documento molto rilevante poiché in questo settore, anche data la dimensione media delle aziende, gli start up sono molto frequenti. Ecco allora che alcuni professionisti dedicano proprio la propria carriera su questo tema molto interessante e stimolante.